Non serviva onestamente la partita di ieri per farsi un'idea sul Milan, visto il grande mercato che ha fatto si è rinforzato tantissimo in ogni ruolo, quindi ha cercato di costruire una squadra più competitiva possibile per cercare di lottare per lo scudetto e quindi sappiamo che sarà una sfida difficile. Sappiamo quello che dobbiamo fare, il mister ci ha spiegato bene quello che dobbiamo fare per provare a mettere in difficoltà questa squadra, quindi soltanto il campo ora darà le risposte. Rispetto all'anno scorso siamo un po' più avanti, come hai detto tu alcuni giocatori sono dall'anno scorso, abbiamo fatto anche acquisti importanti, quindi abbiamo un pochettino più di esperienza per affrontare questo campionato e speriamo che la partenza sia diversa dall'anno scorso per non fare comunque un campionato in salita. È stata una scelta che era libera, era libera la maglia quindi non sapeva chi prenderla e molti compagni mi hanno detto perché non la prendi tu. Io ho colto l'opportunità perché non è da tutti i giorni giocare con la numero dieci in Serie A, ovviamente le responsabilità me le prenderò lo stesso che sia con la dieci che senza la dieci, ecco non è quello. No, no, titolare non mi sento mai perché comunque sia durante la settimana bisogna guadagnarsi il posto, ovviamente sento che ho la fiducia da parte della società, da parte del mister e della squadra, questo lo sento sicuramente. Sicuramente questo ci potrà dare una mano perché sentiamo il calore del pubblico, sentiamo l'entusiasmo che c'è in città e quindi ne giova anche a noi, ne giova anche alla squadra, quindi è sicuramente una cosa in più rispetto all'anno scorso. Il calcio è bello perché ogni partita ha la sua storia, quindi non penso che il Milan abbia affrontato l'Empoli con un anteggiamento di sufficienza per mandarlo in Serie B, anzi sicuramente non è così, quindi noi non pensiamo all'anno scorso, pensiamo quest'anno, pensiamo che loro sono una grande squadra e che noi dovremo cercare di metterli in difficoltà nei pochi punti deboli che hanno. Grazie a tutti.